Pim, 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 pim... Pim, 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 pim... Pim, 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 pim... Pim, 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 pim... Pim, 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 pim... Pim, 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 pim... Pim, 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 pim... Stefano, a terra per pietà di Dio. Stefano, a terra per pietà di Dio. Stefano, a terra per pietà di Dio. A terra, amore? Stefano, a terra per pietà di Dio. Atenzione, lo sguardo assassino. Atenzione, lo sguardo assassino. Stefano, ho appena afferrato un UFO. Allora Stefano, com'è la sensazione? Freddo. Freddo.